tu voi avete mai perdonato cos'è il perdono se mio fratello mi tira un destro dato bene io gli dico fa niente l'ho perdonato se mio fratello mi dà un destro dato bene mi dice guarda scusa cavolo era buio non ci ho visto niente non volevo farti male io gli dico vabbè dai fa niente è perdono secondo me il secondo è perdono il primo no il primo è sottomissione cioè nel primo caso io magari perché sono più debole quindi non voglio farlo ulteriormente arrabbiare oppure perché non ho il coraggio di tirare fuori sentimenti di cui magari ho paura io stesso perché ho paura di fargli male io poi finire in galera per tante ragioni io rinuncio a dare una conseguenza a quello che mio fratello in questo caso ha fatto nella seconda invece delle storielle degli esempi il fratello si è scusato cioè non lo voleva veramente fare l'ha fatto per sbaglio allora lì io giustamente gli dico guarda non ti preoccupare non fa niente mi ha tirato un destro ma credevi che fosse un ladro sono cose che succedono secondo me questo si confonde questi due concetti sono molto spesso confusi nel dialogo quotidiano molto spesso si pensa che la sottomissione sia il perdono molto spesso si crede per esempio che se il mio capo ufficio mi fa mobbing e io non reagisco beh perché sono una persona paziente no sei un verme reagisci reagisci in maniera civile non lo picchiare perché non ha senso però reagisci agisci di conseguenza se non agisci di conseguenza se non dai una conseguenza alle cose puoi farlo perché sei un vigliacco ora io ho voluto fare il colpo di scena ho voluto esagerare magari lo puoi fare semplicemente perché hai figli a casa e non ti vuoi far licenziare perché se no non mangiano che può essere perfettamente legittimo però non è che hai perdonato hai fatto altro il perdono avviene può avvenire soltanto laddove ci sia un pentimento vero da parte di chi ha offeso se chi ha offeso non si pente c'è poco da perdonare che tu non stai perdonando ti stai sottomettendo stai subendo e zitto quindi mi raccomando in alto il vero perdono sempre bene sempre buono perdonare chi merita di essere perdonato ma non inquiniamo la parola perdono con la sottomissione la sottomissione non è mai o quantomeno difficilmente è una buona cosa può essere una cosa comprensibile può essere una cosa accettabile ma è difficile veramente difficile che possa essere una buona cosa una cosa di cui andare fieri la sottomissione in una società giusta non ci dovrebbe mai essere se non in caso di sottomissione volontaria cioè appunto io per esempio agli scout obbedivo al mio capo pattuglia perché così la fila indiana teneva e arrivavamo prima al al campo però non lì c'era se vogliamo più obbedienza che sottomissione la sottomissione è un'altra cosa la sottomissione è obbedire laddove non è giusto obbedire e questo effettivamente io credo sia difficile poterlo difendere ciao grazie a tutti